Di lui naturalmente si sa poco, pochissimo, ma comunque abbastanza ad aprire un nuovo inquietante squarcio sulla vita e sulla latitanza della primula rossa trapanese. Matteo Messina Denaro, ad oggi tra i primi dieci ricercati più pericolosi al mondo e ritenuto l'attuale numero uno di Cosa Nostra, avrebbe un figlio segreto, un bambino che oggi dovrebbe avere fra i 10 e 11 anni e che si chiama Francesco. Della sua esistenza gli investigatori che danno la caccia al superlatitante avrebbero appreso dalle intercettazioni di alcuni familiari del boss. Messina Denaro ha già una figlia, Lorenza, oggi diciottenne, avuta dalla relazione con Francesca Lagna. Questo secondo figlio sarebbe nato durante la latitanza, probabilmente fra il 2004 e il 2005, nelle zone tra Castelvetrano, Partan e Campobello, le stesse in cui Messina Denaro, secondo gli investigatori, si nasconderebbe. Un figlio mal visto dai parenti del capo mafia, tanto che dalle intercettazioni verrebbe fuori addirittura l'ipotesi di fare ricorso al test del DNA. Nulla si sa invece della madre del bambino, insomma un nuovo mistero nella vita del super boss che continua a sfuggire alla cattura, nonostante il mandato internazionale per associazione mafiosa, omicidio, strage, devastazione, detenzione e porto di materiale esplosivo e nonostante i blitz che anche di recente hanno assestato duri colpi alla sua rete di fiancheggiatori, come l'operazione Eden del dicembre 2013. Era considerato il re del cacciestruzzo tra le province di Trapani e Palermo ed evidentemente, nonostante le inchieste, gli arresti, il sequestro e la confisca dei suoi beni, lo era ancora. E' finito di nuovo in carcere Benedetto Valenza che i carabinieri di Palermo hanno arrestato nell'ambito dell'operazione Benni 3 scattata all'albe che ha portato anche al sequestro di un'azienda di Borgetto. Valenza è figlio di Salvatore e nipote di Erasmo. Valenza è esponente di spicco della famiglia mafiosa di Borgetto, vicinissima da sempre al boss Gaetano Badalamenti, entrambi vittime di lupara bianca nell'83. Già negli anni 90 era ritenuto punto di riferimento di Cosa Nostra per le forniture di calcestruzzo. Le aziende di Valenza erano state sequestrate e confiscate poi nel 2001. Adesso la nuova indagine ha rivelato che Valenza non solo aveva ripreso autivamente ad occuparsi dei suoi vecchi affari ma era riuscito a riconquistare il monopolio del calcestruzzo grazie ad un'altra società, la Euro Calcestruzzi di Borgetto, formalmente intestata a Giuseppe Giaimo e Filippo Scrozzo che in realtà, come dimostrato dalle intercettazioni, erano soltanto suoi prestanome. Era invece Valenza stesso a occuparsi dei rapporti con gli imprenditori edili palermitani e trapanesi che si rivolgevano a lui per prezzi e trasporto delle forniture. Riusciva anche a orientare le scelte di altri imprenditori spingendoli a optare per le sue forniture anziché per quelle di ditte concorrenti. L'Euro Calcestruzzi sequestrata oggi ha un valore di circa 400.000 euro. Formazione dei professionisti, sviluppo tecnologico e intensificazione degli scambi commerciali legati al settore dell'elettronica, delle energie rinnovabili ma anche del turismo e dell'agroalimentare. L'obiettivo del protocollo tra Sicilia e Emirati Arabi è la crescita economica e lo sviluppo di un prodotto unico che possa competere con quelli del mondo asiatico. L'iniziativa che rientra nel progetto di internazionalizzazione delle imprese e paesi del golfo, voluto dall'assessorato attività produttive, comprende 42 aziende siciliane dei settori meccanica e meccatronica, turismo e agroalimentare delle province di Catania, Ragusa, Caltanissetta, Grigento, Palermo e Trapani che si confronteranno e realizzeranno una stretta collaborazione con i 35 operatori economici degli Emirati Arabi Uniti e dell'OMAN. A sugellare questo matrimonio sarà il fatto che le imprese siciliane selezionate, forse di nicchia, rappresentano delle eccellenze nei rispettivi settori, che le distinguono nelle forniture rispetto ai competitor.